ariete sono giorni che vedono fermento in ambito lavorativo incontri o accordi da definire questioni che non sempre scivolano via agevolmente la vostra natura combattiva non demorde soprattutto adesso con marte in transito nel segno che vi dà una marcia in più toro periodo poco favorevole alle faccende di cuore inquinate da dubbi o dissapori da un senso di solitudine un buon tono vitale in fonde fiducia in voi stessi e nei vostri programmi proseguite con metodo e regolarità nelle vostre attività lavorative e quotidiane gemelli periodo dinamico e positivo per voi frizzante nella vita di relazione negli incontri sentimentali e nella sensazione di piacevole benessere che vi pervade possibili conferme di carattere lavorativo in ogni caso non vi mancano iniziativa e capacità dialettica cancro in questo periodo dovete assestare un po alcuni rapporti alcuni equilibri nella vita sociale e in ambito lavorativo irrequieti e altalenanti nell'umore meglio ragionare a mente fredda senza farsi condizionare dalla emotività leone state attraversando una fase ricca di novità piacevoli sia nelle faccende sentimentali che nella sfera sociale delle amicizie i favori si fanno sentire anche nell'ambiente di lavoro e nella sintonia con chi vi circonda infatti l'obiettivo attuale è armonizzare ciò che gira intorno a voi vergine cielo astrale benevolo che conferma le vostre posizioni e i programmi che state portando avanti c'è più consapevolezza nelle vostre scelte e riuscite a stabilizzare alcune priorità una certa piacca può intervenire e farvi sognare una pausa vacanziera bilancia è un periodo un po turbolento con marte in aspetto di opposizione che vi rende irritabili tuttavia adesso il cielo astrale ha per voi ottime influenze che favoriscono la vita sentimentale e quella di relazione buone notizie dal settore lavorativo e più ottimismo scorpione il momento vede alcune contrarietà nelle vicende affettive amorose una minore disponibilità che vi rende a volte provocatori meglio evitare i toni eccessivi affrontate le questioni a mente fredda conferme soddisfacenti in merito ad alcuni progetti sagittario è un assetto astrale positivo il vostro che rende frizzanti le giornate favorisce la sfera sentimentale e il senso di armonia intima inoltre alimenta la vostra verve sportiva e cameratesca in ambito lavorativo alcune iniziative vanno a buon fine capricorno una solida base astrale conferma l'andamento positivo dei progetti in corso dei programmi di lavoro e personali tuttavia rimane un sottofondo di irrequieta instabilità che inquina la tranquillità del quotidiano cercate di vivere con più flessibilità gli impegni acquario in questi giorni prevale la vivacità e la voglia di sentirvi attivi spostamenti brevi viaggi incontri e dinamismo sono il vostro pane quotidiano ma dovete anche combattere con qualche dissapore nella sfera sentimentale occorre più dialogo pesci è un momento di pigrizia di recupero energetico vi pesano gli impegni del quotidiano e se potete vi ritagliate uno spazio di relax rigenerante l'andamento è ordinario qualche contrarietà nei programmi può far capolino ma tutto sommato potete accontentarvi buone stelle le a Grazie a tutti.